La prossima volta avvisaci prima di farlo! L'hanno chiusa per impedire alla gente del paese di andare a lanciare. Bisogna aprirla dalla parte opposta. La prossima volta avvisati. Oh! Devo conservare le munizioni e concentrarmi sulla missione. Non sono qui per ammazzare sporchi nazzisti. O almeno non solo per questo. Senti come sfrigolano! Indietro! Si! 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 Beh, è un passo in avanti Beh, è un passo in avanti Amore della mia vita Bisogna deviare la corrente elettrica Niente da fare Serve più energia Niente da fare Serve più energia Niente da fare